Incentivare il dialogo tra donne e politica. Con questo obiettivo la consulta femminile ha organizzato una tavola rotonda con il CAFID, coordinamento delle associazioni femminili di imprenditrici e dirigenti. Tra le tematiche affrontate, l'elaborazione di strategie per contribuire a una maggiore presenza delle donne nei processi di policy decision marketing. Oggi iniziamo un nuovo progetto di CAFID. CAFID è l'associazione che raggruppa tre associazioni di donne. Federmanager Minerva, AIDA e LAPID. Tre associazioni di donne che lavorano e che oggi si confrontano con il mondo della politica. Quindi il mondo del lavoro femminile e il mondo della politica. Inizieranno i lavori in questa giornata. Non abbiamo che prospettarci grandi risultati da questo progetto perché sono tutte donne concrete, pragmatiche, che sanno che cosa vogliono e sanno fare un confronto paritario con il mondo della politica che qualche volta è un po' più ostico.